Pato tornerà al più presto con i suoi proprietari. Il bulldog francese bianco e nero scomparso da Santa Firmina due anni e mezzo fa è stato infatti ritrovato a Portici in provincia di Napoli da un ragazzo mentre dormiva in un materasso. Il bulldog francese visibilmente denutrito è stato a soccorso e portato alla ASL locale che controllando il microchip ha confermato quelle che sino a quel momento erano solamente le speranze dei proprietari. Quel cagnolino era realmente Pato. Il canne era scomparso il 28 ottobre 2013 da Santa Firmina e da quel giorno i suoi padroni lo avevano cercato in ogni modo. Si erano mobilitati con volantini, avevano noleggiato un'ape con una vela pubblicitaria ed avevano addirittura offerto una lauta ricompensa a chi lo avesse ritrovato. Le ricerche del cagnolino erano poi passate anche tramite social network e il gruppo di Facebook Aiutiamo Pato a tornare a casa conta infatti più di 7.000 iscritti provenienti da tutta Italia che in questi anni non si sono mai fermati e rassegnati. Ed adesso il migliore epilogo per questa storia. I proprietari potranno al più presto riabbracciare Pato, sono infatti già in viaggio verso Napoli per riportare a casa il loro cagnolino.